RATE MY PROFESSOR Scegli il professore che vuoi valutare Scrivi il corso del professore che hai scelto International Business Law Vota il professore scelto con un protaggio da 1 a 30 Se bene di primo acchitto possa sembrare un po' burbero Si dimostra eccellente nell'esperazione E' sempre disponibile nel fornire ulteriori indicazioni A chiunque volesse ulteriormente approfondire lo scelto Bene, sono contento Io non insegno International Business Law International Business and Management Però va bene You learn by even by just looking at in breaking Nothing to tell about It is not possible to have something more Professor Cerchiello's robotic voice makes you sleep sometimes But when you manage to stay awake You realize that a gorgeous woman Is explaining the concept really well Love you more than Python Qui è buono ma dato 30 Una vita dedicata alla ricerca La scoperta e allo studio Che traspare in ogni parola i propri faggi Un corso per i contenuti anche ribelle A una certa età questo va anche bene Come dovrebbe essere un'università La protezione del sapere senza etichette The language level professor, in my opinion, is very well prepared Is not appropriate to an MSC pool taken in English Ok At the same time, the contents of the class are not clear And are 100% abstracted In my opinion, this class should be linked to Fair Valuation and Capital Market class In order to give a student Some solid basic about finance and financial work He has MIBE in his heart I like this because I try my best to also Let's show that it's also a matter of passion Ok, it's not just a matter of knowledge But it's a mix between passion and knowledge So this is nice Corso molto interessante Lezioni ben spiegate e coinvolgenti Il professore è stato capace di interessarci la materia Ed è stato subito molto chiaro Su come preparare l'esame E cosa studiate per essere in allartenza Fantastico